Abbiamo visto gli atti, li stiamo analizzando, da quello che abbiamo visto finora non esistono tangenti pagate per la sanità. Lo ripeto, non ci risultano tangenti pagate per la sanità. Quindi non esistono tangenti pagate per la sanità. La sanità della Regione Lombardia non paga tangenti, è una sanità di eccellenza. Finiremo le verifiche entro la giornata di oggi, domani farò l'incontro con i consiglieri di maggioranza per rilanciare l'azione della Regione perché se sarà confermato quello che noi abbiamo visto, non ci sono tangenti pagate in sanità, magari qualcuno ha sbagliato nel fare le cose che ha fatto ma la sanità della Regione Lombardia non c'entra. Quindi tutto quello che è stato scritto sui giornali tangenti sanità è un attacco politico e ha ragione Salvini.